E' stata una notte particolare, il ministro Andrea Orlando mi ha chiamato, invitandomi ad andare al ministero, un ministero che crea anche qualche soggezione. Sono queste le prime parole da sottosegretario alla giustizia di Federica Chiavaroli, 45 anni, pescarese, madre di tre figli, imprenditrice nel settore dell'istruzione. Ex consigliere regionale nella legislatura guidata da Gianni Chiodi, un passato di militanza nel popolo della libertà, nell'equilista è stata eletta al Parlamento nel 2013, dopo essere stata quasi costretta ad accettare la candidatura. Sempre nel 2013 è stata tra le promotrici del progetto politico di Angelino Alfano per la creazione del nuovo centrodestra, all'atto della disgregazione del popolo della libertà e della rinascita voluta da Silvio Berlusconi di Forza Italia. La senatrice Federica Chiavaroli è arrivata alla carica di sottosegretario alla giustizia, dopo che a lungo si era parlato di un suo ingresso all'interno dell'esecutivo capitanato dal primo ministro Matteo Renzi, voci che si sono rincorse da quando, lo scorso anno, l'allora ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi, quota NCD, aveva rassegnato le dimissioni, aprendo così i giochi di un rimpasto nel governo Renzi. L'ingresso nell'esecutivo della Chiavaroli rafforza il ruolo abruzzese nell'amministrazione della giustizia italiana, dopo l'elezione di Giovanni Legnini, in quota PD, a vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Sono stati molti messaggi di augurio da parte della politica abruzzese, dai compagni di partito di Paolo Tancredi e Giorgio D'Ignazio, all'onorevole PD Vittoria D'Incecco, passando per il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, fino al presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, che in una nota ha rivolto alla senatrice gli auguri di buon lavoro a nome dell'intero Consiglio regionale dell'Abruzzo. Di Pangrazio è anche ricordato come quella della Chiavaroli sia una nomina importante per la regione che arricchisce l'Abruzzo di un interlocutore autorevole all'interno del governo.